Io sono molto soddisfatto di questi sei mesi, lo dico con grande umiltà come mie proprie, ma anche con determinazione perché ciò davvero che avevamo immaginato nel programma di fare l'abbiamo davvero fatto. Il patto per il lavoro è il coronamento di un impegno che ci vede affrontare quella che per noi è una vera e propria ossessione, cioè creare nuovi posti di lavoro per superare definitivamente la crisi e con quello strumento, fatto di 15 miliardi di euro da mettere in campo nei prossimi cinque anni, davvero la sfida è di provare a dimezzarla questa disoccupazione e creare oltre 100 mila posti di lavoro. Dall'altro un sistema di welfare da garantire di grande qualità dal punto di vista dei servizi, ad esempio abbiamo detto che abbiamo uno dei sistemi sanitari migliori in Europa ma qualche difetto c'è e quando abbiamo detto qualche ora fa che davvero proveremo ad aggredire la riduzione dei tempi di attesa per alcune prestazioni sanitarie lo facciamo e lo faremo sul serio. Più in generale un'Emilia Romagna che vuole ripartire, nella quale mettere le imprese in condizione di poter davvero continuare a produrre, lo dicono i numeri dell'export, prodotti di tale eccellenza che nel mondo sono ricercati sempre di più, dall'altra garantire buona e nuova occupazione con la legalità e il rispetto delle regole al centro dell'azione di governo e una regione che vuole continuare a competere o competere sempre meglio con i territori più avanzati d'Europa e del mondo. Io mi auguro che questa legislatura possa essere la legislatura in cui alcune infrastrutture di cui si attende da decenni, penso alla Cispadana prima di tutte, possa vedere finalmente la luce. Vorrei ricordare che quelle infrastrutture decise già dai territori sono infrastrutture che muovono e muoverebbero alcuni miliardi di euro tra risorse pubbliche ma soprattutto in quel caso con i project financing risorse private.